Ben trovati oggi negli studi del telegiornale di Cilento Channel, ospitiamo Luigi Maurano, ben trovato. Grazie, grazie dell'ospitalità. Grazie per essere qui con noi, Luigi Maurano, consigliere di minoranza del comune di Castellabate, è qui per chiarire alcuni passaggi sulla questione CONSAC. Come sapete tutti quanti faccio un breve riepilogo, l'8 di gennaio c'è stato un consiglio comunale straordinario, proprio perché la gestione idrica del comune di Castellabate da un anno a questa parte è passata alla CONSAC. Allora, da dove vogliamo partire? Partiamo sicuramente dalle dichiarazioni che ha fatto il sindaco. Io in questi giorni ho ascoltato e mi è venuto da sorridere nell'ascoltare gli affannati e disperati tentativi del sindaco di giustificare quella che è una scelta scellerata. Mi è sembrato un po' come quando un bambino fa una marachella e viene scoperto e cerca in tutti i modi di giustificarsi. Però il dato di fatto è uno solo, che i cittadini di Castellabate in questi giorni fino al 30 gennaio dovranno pagare delle bollette salatissime per la scelta politica, politica, perché questa è una scelta politica, di affidare la gestione del servizio idrico integrato alla CONSAC. Quindi, diciamo, questo è il dato incontrovertibile. E la CONSAC è le tariffe più alte di tutto l'ambito. Ho sentito varie giustificazioni, giustificazioni che sono state smondate pezzo per pezzo nel Consiglio Comunale, da parte nostra, sono state smondate. E quindi li sentirle e sentirle divulgare da parte del sindaco non è una situazione veritiera al 100%. E quindi è doveroso da parte nostra precisare le situazioni e alcune cose. Partiamo con una cosa semplicissima, con una prima inesattezza del sindaco. Dice che è un obbligo di legge. Io voglio ripetere i cittadini del Comune di Castellabate che non c'è nessuna legge che obbliga a scegliere proprio la CONSAC, quale gestore del servizio idrico del Comune di Castellabate. Ma c'è di più. Quella loro stessa legge che dicono essere stringente ed essere obbligatoria, il decreto legislativo 152 del 2006, prevede una deroga per la gestione anche in autonomia. Quella deroga è prevista nell'articolo 147,2 bis lettera B. Il sindaco dice che c'è un parere del Ministero per cui quella deroga vale soltanto per i comuni sotto i 1.000 abitanti. Però il sindaco deve specificare, uno, che il parere non è legge. E questo è un principio giurisprudenziale. E due, che questo stesso parere è stato ridimensionato da una sendenza del TAR Brescia nel marzo del 2017. E quindi la possibilità della gestione autonoma il Comune di Castellabate ce l'aveva. Soprattutto perché dovevano ricorrere tre requisiti, approvvigionamento da fondi idriche di qualità. E Castellabate ha questo approvvigionamento. Una sorgente ricadente in un'area protetta. E Castellabate è proprietario di una sorgente, la sorgente Paiara, nel Parco Nazionale del Cilento. Ma è proprietario e poi ha a disposizione anche altre risorse idriche. Quindi c'era questa possibilità. E infatti l'abbiamo inserita nella proposta. Quindi, perdonami, giusto per far quadrare il discorso ai nostri cittadini, tu smentisci in un certo senso quello che ha detto il Sindaco, ovvero la gestione autonoma dell'acqua per legge non si può fare. Giusto? Assolutamente. Sì che smendisco perché c'è questa possibilità di farla. Ti dico anche di più. Ci sono 1390 comuni che ancora gestiscono in autonomia. Non sono stati né commissariati né puniti per questo. Quando il Sindaco dice che c'era questo obbligo di legge, non c'era nessun obbligo di legge a scegliere proprio la CONSAC e c'era la possibilità attraverso questa deroga di poter gestire ancora in economia e in una gestione autonoma. Ma se ciò non fosse stato possibile c'era anche un'altra possibilità, scegliere un gestore con le tariffe inferiori rispetto alla CONSAC. E in questo caso ASIS. Perché nel nostro distretto ASIS è quella che ha le tariffe minori e inferiori rispetto alla CONSAC. Però il Sindaco dice che l'ASIS ha valutato la questione, la situazione e ha visto che in realtà il servizio era in perdita, così come pure diceva il Sindaco, circa un milione e due ogni anno doveva rimettere il Comune di Castellabate. Quindi ASIS ha ritenuto opportuno non aderire a questa proposta. Anche qui c'è bisogno di fare chiarezza Gianni, perché detto così, come dice il Sindaco, sembrerebbe che ASIS ha detto un categorico no alla gestione del servizio di titolo integrato del Comune di Castellabate. In verità diciamo subito che la perdita di un milione e duecentomila euro all'anno, come dice il Sindaco, è responsabilità dell'amministrazione che non ha saputo gestire. E perché dico che è responsabilità dell'amministrazione? Perché qui ho il prospetto anche degli anni precedenti dove non erano queste le cifre negative della gestione del servizio di titolo integrato. Per esempio nel 2005 c'era una differenza negativa di 598 mila, non un milione e duecento. Quindi qui c'è una responsabilità amministrativa. Io lo dico senza timore, c'è un'incapacità amministrativa da parte dell'amministrazione in carica, dell'amministrazione Spinelli, perché i dati lo dicono. Perché se c'è un saldo così negativo è colpa di chi gestisce, non si è organizzato bene i servizi. Non sono stati fatti investimenti. Tutte le amministrazioni precedenti, tutte, nessuna esclusa, ha investito sui depuratori. L'amministrazione Spinelli ha fatto solo l'ordinario per sua stessa ammissione in questi studi, quindi non sto dicendo niente di nuovo. E soprattutto, e questa è anche la cosa da sottolineare, i depuratori del comune di Castellabate sono sotto sequestro per la prima volta nella storia. Perché? Perché ci sono delle criticità per ritornare al fatto della risposta dell'Asis. Ti dico subito che l'Asis ha fatto un sopralluogo, due sopralluoghi, e ha rilevato queste criticità. Poi, a fine di questi sopralluoghi, ha detto alcuni di Castellabate, guardate, per ammodernare gli impianti ci vogliono 681.855 euro. Castellabate non ha risposto. Non ha detto niente ad Asis. Non ha detto, diamo noi un contributo, così puoi prendere la gestione e quindi applicare le tariffe minori rispetto a Consac. Non ha detto niente. L'incongruenza dov'è? L'ho detta anche in Consiglio, poi sento il sindaco qui dire altre cose, ma io gliel'ho spiegato, gliel'ho smondato pezzo per pezzo tutte le sue affermazioni che ha fatto nel stesso nel Consiglio. L'incongruenza dov'è? Che Consac fa una relazione, anche Consac fa una relazione sugli impianti, rileva queste criticità anche Consac, però chiede al comune di Castellabate un contributo di 1.100.000 euro. E Castellabate dice sì, l'amministrazione Spinelli dice sì al contributo di 1.100.000 euro alla Consac per l'ammodernamento dell'Italia. Perdonami, perché avrebbe dovuto non rispondere ad Asis e dire sì a Consac rispetto a quello che sta dicendo? Questo dovrebbe essere un aspetto da chiarire, che deve chiarire l'amministrazione, perché poi c'è anche un altro aspetto molto importante che fa capire che non è stata Asis a dire un no categorico, ma è stato un no indotto. Ma soprattutto quando dice l'Asis, cioè il sindaco dice l'Asis ha rifiutato, allora siamo stati costretti ad andare con Conte. Guardate, qui c'è una delibera del commissario straordinario dell'autorità di ambito Sele, nella quale c'è scritto espressamente, è qui riportata, poi puoi anche visionarla. Facciamo fare il dettaglio alla telecamera di Andre Giaccio in regia. Che nella conferenza dei servizi del 26.01.2018, il sindaco di Castellabate manifestava la propria irrevocabile volontà di trasferire la gestione del servizio idrico integrato del comune di Castellabate alla società Consac, gestione idrica S.P.A., in quanto più conveniente dal punto di vista geografico, non è neanche vero, e più rispondente ai bisogni del suo territorio. E questo non è vero, i bisogni del territorio, i cittadini hanno bisogno di tasse più basse, non di tasse più alte. Quindi qui c'è un irrevocabile volontà da parte del sindaco di cambiare bacino e di passare dal bacino Asis al bacino Conte, con una delibera, un atto commissariale fatto dal commissario. Quindi quando dice... Il commissario sarebbe il sindaco parente, giusto che... Sì, che venne anche nel Consiglio, che venne anche nel Consiglio e che aveva tutta la possibilità di parlare, perché non è vero che non gli è stato dato modo di parlare, lui aveva la possibilità di parlare, capì che la situazione, che c'era la volontà politica, che era stata una volontà politica, perché questo è un atto di volontà politica, questa è una forzatura se vogliamo anche politica. E quindi è bene che si sappia, è bene che venga specificato e venga detto perché ho sentito dire l'Asis non ci ha voluto, visto che l'Asis non ci ha voluto, noi siamo andati con Consiglio. Non è così la storia. Il no di Asis è stato un no indotto e soprattutto la scelta della Consiglio è che è stata un irrevocabile volontà del sindaco di Castellabate. Quindi se i cittadini di Castellabate devono pagare queste bollette salate, salatissime, e soltanto per volontà politica di questa maggioranza che per ben due volte ha cittadini. Per chi secondo te avrebbe dovuto scegliere Consac e Noasis il sindaco? Eh, questa è una domanda che bisognerebbe farla al sindaco, perché Consac e Noasis, lui dice per obbligo, l'obbligo l'avete visto, non c'è, bastava dare quei 681.855 euro all'Asis e l'Asis avrebbe preso il servizio del Comune di Castellabate, la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Castellabate. Ma c'è di più, io ho sentito il sindaco, dire, no, noi acquistiamo 1.900.000 metri cubi, ne vendiamo 750.000, c'è una discrepanza di quasi 1.150.000 metri cubi, e poi accusa i cittadini di Castellabate di essere degli evasori. E questo non lo permetto, perché i cittadini di Castellabate sono persone serie, oneste, e un sindaco che accusa i suoi cittadini di evadere non merita di essere il sindaco di quei cittadini. Ti prendi la responsabilità di quello che stai dicendo. Assolutamente sì, e ci mancherebbe. Un sindaco che accusa i suoi cittadini di essere evasori quando sull'acqua l'evasione non è così grande come sugli altri tributi, allora è un sindaco che offende i cittadini per difendere se stesso. E questo non è ammissibile, anche perché bisogna dire che molti di quei metri cubi che vengono persi, vengono persi non dando per l'evasione dei cittadini, ma per le perdite delle condutture idriche e le perdite dei serbatoi del Comune di Castellabate, che corrono, corrono tutta l'estate. Le ho segnalate più volte, quindi qui c'è anche lo spreco e l'incapacità gestionale che c'è stata in questi anni. Le cose vanno dette bene, perché se no si rischia di confondere, bisogna essere precisi. Poi nella confusione loro cercano di confondere, quindi è bene specificare tutte queste situazioni. Sai qual è la cosa? Che noi le abbiamo già dette queste cose. Noi abbiamo smondato la tesi della maggioranza e del sindaco, pezzo per pezzo, nel Consiglio Comunale. L'abbiamo detto in più occasioni. Ora lo ridiciamo qui, perché vedo che nel Consiglio Comunale il sindaco non ha espresso tutte queste, questa sua tesi e poi invece però va nelle tv e le emittenti a dire tutt'altro. Ma noi sono cose che già abbiamo detto, quindi non rimane adesso questa opportunità di ritornare con Asis perché in base alla deliberazione di Consiglio Comunale e quindi attendiamo? Attendiamo, ma soprattutto a me sembra una proposta di delibera. Noi nella nostra proposta di delibera avevamo anche emesso l'opportunità, come ho detto prima, di gestire l'autonomia nel caso non fosse stato possibile, affidare la gestione all'Asis che aveva le tariffe più basse, solo per quel motivo, perché ha le tariffe più basse. Il sindaco poi ha fatto una controproposta, un emendamento alla proposta, nella quale era un po' bipolare la situazione, cioè diceva ok noi cambiamo un'altra volta bacino, quello stesso bacino che lui ha voluto cambiare nel 2018 con la sua irrevocabile volontà di passare a Consac e poi che cosa dice? Però chiediamo anche alla Consac la possibilità di chiedere un'aderoga agli organismi regionali per abbassare le tariffe, quindi delle due l'una, devi scegliere. Se ho capito bene andrebbe a chiedere alla Consac di pagare rispetto agli altri comuni le bollette un po' più basse? Questo è quello che ha detto il Consiglio Comunale nella sua proposta, quindi non è stata una proposta chiara la sua, perché c'era sia Asis che Consac in quella proposta, quindi diciamo la verità, il dato incontrovertibile, il dato che rimane è che Consac ora è il gestore del servizio idrico del Comune di Castellabate e Consac ora sta applicando le sue tariffe che sono le tariffe più alte di tutto l'ambito e sta applicando ai cittadini di Castellabate. I cittadini di Castellabate non meritano questa tarifazione sull'acqua, perché l'acqua è un bene vitale, l'acqua è un bene che non può essere paragonato a altri beni, il caffè e quant'altro, perché dell'acqua non ne puoi fare a meno. Quindi questa è una battaglia nostra che parte dal 2018, sento parlare di populismo, strumentalizzazione politica, demagogia, ma quale demagogia? Ma quale strumentalizzazione politica se noi è dal 2018, da febbraio 2018, che diciamo con voce forte e supportati dagli atti che Consac è una scelta scellerata, che fa male ai cittadini di Castellabate, che incide purtroppo negativamente sull'economia locale di tutti i cittadini, sull'economia del territorio. E questo non è una cosa positiva per il territorio e per questo noi ci batteremo fino all'ultimo affinché l'acqua non venga sovratassata come purtroppo è avvenuto per scelta politica di questa amministrazione. Quindi la nostra posizione è sempre quella molto chiara, via la Consac dal comune di Castellabate. Bene, bene, grazie allora Luigi Maurano per essere stato qui con noi. Io ne approfitto sicuramente di comunicare al consigliere Maurano, ma anche a tutti i cittadini, al comitato che si è costituito, al comitato No Consac, che prossimamente la nostra emittente cercherà di organizzare magari un confronto politico, mettendo tutte le parti in campo e chiarire magari una buona volta quelle che sono le posizioni e quella che è sempre la verità. Grazie a tutti, l'appuntamento è rinnovato a una prossima occasione con l'ospite in studio nel Tg di Cilento Channel.